Il passato sotto le bombe nel presente sulla Papa Mobile, un destino sorprendente per alcuni bambini arrivati dalla Siria, le immagini ammatoriali che vedete sono proprio all'ingresso del Papa in piazza per l'udienza di stamattina. E in fondo è ormai abbastanza frequente vedere dei ragazzini fare il giro sulla jeep insieme a Francesco, ma quelli di stamani sono davvero bimbi speciali. Eritrei, somali e appunto siriani arrivati, lo ricorderete, con un volo speciale, il primo corridoio umanitario dalla Libia, realizzato grazie al Ministero dell'Interno, Nazioni Unite e Conferenza Episcopale Italiana lo scorso 22 dicembre a ridosso di Natale. Sono tutti rifugiati politici, tant'è che indossano una maglietta con una scritta eloquente, non sono pericoloso, ma sono in pericolo. La maggior parte sono musulmani, ma riconoscono in Francesco il padre buono che li protegge. Che hai detto al Papa? Mi ha detto lui, ti voglio bene, io ho detto grazie. Tu di dove sei? Io in Siria. L'avevi mai visto il Papa prima? No, la prima volta l'avevo visto. E che impressione ti ha fatto? Cioè sei tanto bello. Sei stato contento? Sì. Oggi sorridono, ma questi piccoli hanno sopportato dolori indicibili, perché la guerra significa sangue e violenza. E uno di loro ha visto il fratello morire sotto i suoi occhi, ucciso brutalmente. Mustapha, tu hai pure tirato il Papa giù per dargli il bacio. Sì. E che cosa hai detto al Papa? Ci vuol dire il Papa, misericordia. Dillo, dammi un bacio. Grazie, Papa Francesco. Un percorso di integrazione che li ha portati anche a scuola in Italia. Ti piace la scuola veramente? Sì. Perché legge, scrive. Accolti dalla cooperativa Auxilium sono ora ospiti nel centro mondo migliore di Rocca di Papa, ma nei prossimi giorni partiranno per la Germania. Con ricordo indimenticabile di aver potuto abbracciare e ringraziare Francesco, che si è prestato di buon grado al loro incontenibile desiderio di scattare anche un selfie, per non dimenticare questo momento di gioia.